Almeno sei acquisti per ripartire al meglio dopo una stagione da dimenticare. Se in attacco ruota tutto attorno alla cessione di Ozyman, in difese a centrocampo la situazione è un po' più intricata. Il Napoli non ha mai sostituito a dovere Kim e si è ritrovato a giocare con Wanjiei Sustitolare, che l'anno scorso faceva la riserva. Con Nathan che si è dimostrato totalmente inadatto per il campionato italiano e Ostigard sulla lista delle partenze, gli azzurri sono a caccia di centrali. Il sogno si chiama Alessandro Buongiorno, per il quale è stata già fatta una proposta da 35 milioni più 5 di bonus al Torino. Toro che però punta a ricavare anche di più e attende offerte dalla Premier. Il Napoli non molla David Danczko, ex Fiorentine, ora in forza al Feyenoord, che i partenopei seguono da diverso tempo. Piace anche Rafa Marin, spagnolo classe 2002 di proprietà del Real Madrid, in prestito alla Lavès. Resta nei radar Dragusin, che potrebbe lasciare il Tottenham dopo appena sei mesi. In quel caso ADL ci riproverebbe dopo il blitz fallito a gennaio. Come detto, anche la mediana sarà un reparto da ricostruire, con innesti di qualità dopo gli addi certi di Zielinski, che ha già salutato i compagni, e Demme da Svincolati, ai quali si uniranno quelli di Traored e Dendonker, che faranno ritorno in Inghilterra. A centrocampo il primo obiettivo è il talento dello Shakhtar, Georgi Sudakov. A gennaio, per il 21enne ucraino, il Napoli offrì 40 milioni, che sono stati rispediti al mittente. La sua valutazione ora è in costante crescita. C'è anche un'idea a Manu e Lugarte, che potrebbe essere inserito nell'eventuale trattativa che porterebbe Osimene al PSG. A gennaio ci sono stati contatti con il Borussia Moshemblabak per Manu Coné, che resta un'opzione gradita. In Italia si è fatto notare Marco Brescianini, chilometri e gol al servizio del Frosinone, per una missione salvezza che si cercherà di completare all'ultima giornata.